Che cos'è e come si dona il 5 per mille dell'IRPEF? Ogni anno, in primavera e in autunno, milioni di italiani che lavorano devono pagare le tasse. Quello che forse non tutti sanno è che quando facciamo la dichiarazione dei redditi abbiamo il diritto di scegliere che una piccola quota delle tasse che paghiamo allo Stato italiano venga donata ad un'organizzazione di utilità sociale di nostra scelta. Questa quota è appunto il 5 per mille dell'IRPEF e la possiamo donare ad organizzazioni di utilità sociale come enti di ricerca scientifica e sanitaria, associazioni di volontariato e organizzazioni benefiche che siano iscritte nello specifico elenco. Attenzione però, perché se non faremo una scelta specifica il nostro 5 per mille andrà tutto automaticamente allo Stato italiano. Ma quindi, come si fa a scegliere? Cioè, come si dona in concreto? È semplicissimo. Diciamo che abbiamo deciso di donare il nostro 5 per mille ad un'organizzazione benefica ad esempio l'Esercito della Salvezza che si occupa di aiutare le persone in difficoltà attraverso iniziative, programmi e campagne di solidarietà in Italia e nel mondo. Per farlo basterà compilare il modello 730, il Q oppure il modello Redditi ex modello unico firmare nel riquado per il sostegno agli enti del terzo settore e indicare il codice fiscale 079 33 85 1003 Quest'anno firma e devolvi anche tu il 5 per mille all'Esercito della Salvezza e soprattutto fai passaparola tra i tuoi contatti Più siamo e più vite salviamo!